E tra le eccellenze italiane esportate negli Stati Uniti d'America. Tentazioni Pugliesi, tarallificio che ha sede sulla direttrice Andrea Trani, ha ritirato nei giorni scorsi il suo Summer Fancy Food Awards al Javits Center di New York. Si tratta di un riconoscimento di notevole importanza. Il mercato americano è uno dei più ambiti per le imprese italiane. È un mercato florido dove i prodotti di eccellenza sono valorizzati e pagati al giusto prezzo. Il riconoscimento dunque è al lavoro svolto, alla qualità del prodotto, ma soprattutto permette al marchio di farsi conoscere ulteriormente in un mercato che potrebbe arrivare ad impegnare interamente la produzione del tarallificio Tentazioni Pugliesi. Un grande orgoglio per il suo fondatore Giovanni Matera, che ai prodotti da forno ha dedicato tutta la propria vita. La storia parte da lontano 1975, comunque, dell'arte bianca. L'azienda è nata nel 2004, un po' di esperienza ce l'avevo alle spalle, da una scuola piemontese, nasco di là come planificatore, e poi mi sono buttato nel mondo interale. Il mondo interale che mi sa danno un po' di soddisfazione, spero di avere tanto e dare tanta soddisfazione per me e per tutti i miei collaboratori. All'orgoglio di Gianni Matera, fondatore del marchio Tentazioni Pugliesi, si aggiunge quello di tutta l'azienda. Lavorare sodo ha pagato e permette la costante crescita delle esportazioni. Negli ultimi anni sono sempre stati in doppia cifra percentuale gli incrementi nelle vendite dei prodotti di Tentazioni Pugliesi. Siamo stati premiati e scelti dai buyer americani con il prodotto nostro multicereali, taralline multicereali da 200 grammi, della nostra nuova linea dal forno di Giovanni Matera, che è un nuovo brand che abbiamo lanciato sul mercato italiano. Siamo rimasti sorpresi, non ci aspettavamo minimamente questo, quindi chiaramente eravamo da soli io e l'amministratore, nonché proprietario, io sono Giovanni Matera. Siamo rimasti felicissimi, contenti di quello che ci stava accadendo in quel momento. L'abbiamo condiviso insieme, quindi va bene così. Se la versione taralline multicereali è quella che il mercato americano ha riconosciuto come eccellenza assoluta, la proposta di Tentazioni Pugliesi, sebbene indirizzata quasi esclusivamente sul prodotto tarallo, è molto ampia in termini di variazioni sul tema, dai classici ai semi di finocchio, rosmarino, cipolla, agli innovativi caffè e cacao. Rappresenta per noi un punto di partenza, non è certo un punto di arrivo, perché per come ci stiamo esprimendo sul mercato nazionale e internazionale deve essere assolutamente un punto di partenza. Obiettivi sicuramente quelli di crescita ancora aziendale, il lancio di nuovi prodotti, perché è un mercato a cui devi assolutamente proporre sempre qualcosa di nuovo, e soprattutto sul salutistico, quello sicuramente.